Musica di insieme per sezioni ancora per quest'anno dei vostri ragazzi. Sono dei momenti rappresentativi del loro percorso, quindi sono dei momenti importanti. Io parlo al plurale parlando anche per loro, pensavo di interpretare le loro idee e siamo quindi molto contenti di presentarli. Per quello che riguarda la classe prima di percussioni vi presentiamo due lavori che sono un adattamento di un brano di Bella Bartók, quindi che comprenderà anche delle percussioni cosiddette a suono determinato, cioè quelle intonate, la marimba, i timpani, l'oxilofono, quindi ci sarà una parte melodica oltre ad una parte ritmica. E poi, anzi, prima ancora vi presenteremo un brano che è centrato molto sull'aspetto ritmico, su argomenti ritmici e anche includendo momenti di poliritmia e come in alcune tradizioni musicali abbiamo anche delle sovrapposizioni, sovrapposizioni sì di, oltre che di ritmi, anche di improvvisazioni, momenti responsoriali, di richiamo e risposta che guidano un po' lo scorrere del brano. La poliritmia per noi percussinisti è molto importante, quindi per ragazzi essersi esercitati in questo contesto è stata un'esperienza fondamentale. Speriamo che vi piaccia. Speriamo che viaccia. Speriamo che viaccia. Speriamo che viaccia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.